Coppia ruba un rotolo di gioielli da 50.000 euro ma viene scoperta e lo abbandona in un parco. La refurtiva è riconsegnata al proprietario grazie all'intervento dei carabinieri. Termovalorizzatore a chi conviene, il comitato ABC ha organizzato a San Vito Antagliamento una conferenza sull'ipotesi di costruzione di un nuovo impianto nella zona industriale Ponte Rosso. Presenti un epidemiologo e un esperto di economia circolare. Sanità in Veneto orientale, l'ospedale di Jesolo riqualificato con un investimento da 10 milioni di euro. In arrivo nuove terrazze, fronte mare, un parco terapico, una nuova areadeologia e una nuova dialisi con più ambulatori. Il presepe di Sutrio, realizzato da artisti del legno attivi in Friuli Venezia Giulia, sarà esposto in piazza San Pietro a Roma per le festività natalizie. Per il presidente regionale Massimiliano Fedriga è una vetrina importantissima per la nostra regione. Il telegiornale del nord-est, ben ritrovati ai nostri gentili telespettatori. Anche oggi un parterre di notizie dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto orientale. Partiamo subito con la cronaca. Coppia ruba un rotolo di gioielli da 50 mila euro ma viene scoperta e lo abbandona in un parco. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario grazie all'intervento dei carabinieri. Tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. Una refurtiva del valore di 50 mila euro è stata riconsegnata a una gioielleria di Burano dopo un colpo messo a segno da una coppia entrata in azione la scorsa settimana nella notta isola veneziana. In azione sono entrati un uomo e una donna che, con la scusa di acquistare un orologio, si sono fatti aprire la cassaforte del negozio. Distraendo il proprietario hanno sottratto un rotolo contenente svariati e costosi gioielli in oro. Questa è la ricostruzione dei militari dell'arma. L'esercente, resosi conto di quanto stava accadendo, ha provato da subito a fermare i malintenzionati che però si sono repentinamente dati alla fuga. L'uomo, nella concitazione, ha approfittato di un momento di distrazione dei suoi inseguitori per disfarsi del bottino, nascondendolo in un parco poco lontano dal luogo del furto. La coppia, alla fine, è stata bloccata dai carabinieri e denunciata a piede libero, mancando il corpo del reato. Una volta usciti dalla caserma, due militari si sono messi alle loro costole con abiti civili, convinti del fatto che potessero tornare i due nel luogo in cui avevano lasciato il prezioso rotolo. Così, infatti, è stato. Riconosciuti da alcuni residenti, i due sono stati nuovamente messi in fuga, ma i gioielli sono stati trovati dai carabinieri, che alla fine sono riusciti a ridare al gioielliere quanto gli era stato sottratto. Proseguono a Udine i controlli da parte delle forze dell'ordine nelle zone più sensibili della città. Mercoledì scorso, gli agenti della Questura hanno arrestato un pakistano di 32 anni, sorpreso in possesso di 43 grammi di cocaina e 12 di hashish. Edoardo Anese. Mercoledì scorso, gli agenti della Polizia di Stato di Udine, durante un controllo in un'area verde in via Cormor Basso, hanno notato un gruppetto di persone, i cui componenti, alla vista dei poliziotti, si sono allontanati prendendo direzioni diverse. Nel dettaglio, una coppia di agenti ha notato un giovane che lanciava a terra un involucro in cellophane successivamente recuperato e all'interno del quale sono stati rinvenuti 19 dosi confezionate di cocaina e dell'hashish. I poliziotti, poco prima di fermare l'uomo, lo hanno visto gettare a terra un bilancino di precisione e altri due involucri, anche all'interno di questi, sono state trovate rispettivamente 9-21 dosi confezionate di cocaina pronte per essere spacciate. Altri due agenti nel frattempo avevano identificato due cittadini italiani, probabili acquirenti. Dello stupefacente, lo spacciatore, un cittadino pakistano di 32 anni senza fissa dimore, fonti lecite di reddito, sostentamento, è stato accompagnato in questura, arrestato per detenzioni lecite di stupefacenti. Ai fini di spaccio, il bilancino e tutta la droga, in totale 43,4 grammi di cocaina frazionati in 49 dosi pronte per essere cedute e 12,5 grammi di asci se sono stati sequestrati. Nella mattinata di venerdì, convalidato l'arresto, il GIP ha disposto nei confronti dell'uomo alla misura cautelare del divieto di dimora in tutta la provincia di Udine. Nel pomeriggio, sempre di mercoledì 13, due equipaggi del reparto prevenzione crimine Lombardia durante un controllo al Parco Moretti hanno individuato uno straniero palesemente preoccupato per la loro presenza. Lo stesso, un cittadino bengalese di 18 anni residente in città, è stato trovato in possesso di un pezzo unico di asci di 26 grammi celato nella biancheria intima e di 90 euro probabile. Provento di spaccio all'interno della sua abitazione, gli agenti hanno recuperato altri due grammi di sostanza stupefacente e altri 80 euro. Il giovane è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per l'illecita detenzione. Mentre l'ascis e il denaro sono stati sequestrati. Firmato questa mattina a Trieste l'accordo di programma per la riqualificazione e lo sviluppo del porto vecchio. È l'inizio di un percorso che darà valore aggiunto alla città e a tutto il territorio regionale, ha detto il Presidente Fedriga. Sentiamo. Presidente, la Regione oggi firma con il Comune di Trieste le parti interessate, l'accordo per la riqualificazione e lo sviluppo del porto vecchio. Un provvedimento fondamentale per la valorizzazione di un'area altamente strategica per il territorio. La Regione ci crede talmente tanto che ha deciso appunto di fare un investimento proprio per fare l'app di Trieste regionale in porto vecchio. Questo comporta non soltanto una riqualificazione importante dell'area, comporta lo spostamento di circa mille persone e quindi la creazione anche di tutti quei servizi necessari per le imprese che in futuro vorranno insediarsi. Quindi non sarà una cattedrale nel deserto ma già un'area dove ci saranno insediamenti. Terzo, ottimizerà ovviamente anche le spese della Regione che concentrando in un punto i propri uffici riuscirà a spendere meglio le risorse dei cittadini e con tempo appunto a utilizzare le risorse per valorizzare un'area strategica per la città. Il Prefetto di Trieste ha annunziato Vardè ha ricevuto al Palazzo del Governo il generale di Corpo d'Armata Salvatore Camporeale comandante delle Forze Operative Nord dell'Esercito Italiano accompagnato dal colonnello Francesco Maffei comandante militare del Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'incontro il generale ha illustrato al Prefetto i diversi aspetti dell'organizzazione dell'esercito sul territorio dello Stato e le tante missioni che lo vedono impegnato. In particolare si è parlato dell'operazione Strade Sicure che registra un'importante presenza sul territorio del Friuli Venezia Giulia sia ai fini dei servizi di vigilanza e controllo della fascia confinaria sia ai fini della vigilanza e degli obiettivi sensibili con particolare riferimento a quelli della comunità ebraica. Al termine il Prefetto ha ringraziato il generale per il lavoro quotidiano dei nostri militari sia sul territorio nazionale che in scenari di guerra per il mantenimento della pace. Mareggiate sulla costa veneziana la questione finisce in Europa presentata un'interrogazione per l'onorevole Conte e danni per 3 milioni di euro. Sentiamo. A distanza di una settimana esatta dall'ondata di maltempo che ha imperversato a nord-est con danni soprattutto sulle coste il tema delle mareggiate e della difesa degli arenili finisce a Bruxelles. L'europarlamentare della Lega Rosanna Conte ha presentato un'interrogazione urgente alla Commissione Europea evidenziando una stima dei danni di circa 3 milioni di euro con circa 100.000 metri cubi complessivi di spiaggia e rosi tra Iesolo, Chioggia, Rosolina, Araclea, Bibione e Cavallino Treporti con la richiesta dello stato di crisi da parte dei comuni interessati. Tutto il litorale Veneto sette giorni fa ha fatto i conti con forti venti fino a 60 km orari e onde che hanno raggiunto anche i 6 metri di altezza con la conseguente devastazione delle coste danneggiamenti a stabilimenti balneari campeggi e darsene. Siamo di fronte ad eventi avversi ha spiegato l'onorevole Rosanna Conte causati anche dalle ondate di calore alquanto anomale che sono sempre più frequenti e rendono evidente la necessità di realizzare opere di difesa strutturali per evitare danni ancora più gravi di carattere ambientale per salvaguardare l'economia e il turismo. Da qui la richiesta alla Commissione per sapere se e in che modo sta collaborando con i stati membri per assicurare la corretta gestione delle coste e quali strategie e azioni concrete intenda suggerire per un approccio preventivo piuttosto che emergenziale per proteggere le coste dal fenomeno dell'erosione e inoltre se ci sono precedenti di successo all'interno dell'Unione Europea per la gestione preventiva dell'erosione costiera che possano dare impulso all'attivazione di un progetto pilota anche nell'Adriatico. Termovalorizzatore a chi conviene? Cercano di rispondere alla domanda l'epidemiologo Paolo Crossignani e l'esperto di economia circolare Enzo Favoino in una conferenza organizzata dal Comitato ABC a San Vito al Tagliamento al centro della discussione l'ipotesi di costruzione di un nuovo termovalorizzatore nella zona industriale del Ponte Rosso. Sentiamo. Il progetto dell'inceneritore di San Vito al Tagliamento assomiglia a quello di Firenze che era stato previsto per Firenze ci può spiegare come è andata a finire a Firenze? L'iniziativa di Firenze ci dà alcune informazioni importanti perché era un inceneritore più o meno di dimensione doppia rispetto a quello che verrebbe proposto per la provincia di Pordenone un inceneritore da circa 200.000 tonnellate e ciò nonostante aveva una tariffa a base d'asta cioè per mettere in gara la realizzazione e la gestione dell'impianto di circa 190 euro a tonnellata il che va contro quello che le argomentazioni che ho visto pure potrebbero essere sollevate periodicamente sul fatto che il ricorso all'incenerimento potrebbe abbassare le bollette tra l'altro l'inceneritore di Firenze era stato proposto in un'epoca in cui ancora potevano esserci misure di finanziamento da parte europea in particolare dei contributi in conto interesse da parte della Banca Europea degli investimenti quindi con interessi ribassati adesso la Banca Europea degli investimenti in piena coerenza con le politiche europee sull'economia circolare ha chiuso definitivamente qualunque forma di finanziamento all'incenerimento e quindi bisogna fare ricorso al mercato ordinario dei capitali con tassi di interesse decisamente più elevati quindi il rischio qual è? che costruendo questo impianto qual è il rischio che si ha? il rischio per le bollette per le tasche dei cittadini è che la gestione del rifiuto residuo vada ad essere più costosa per me che sono un tecnico ricercatore che ho in mente i principi dell'economia circolare invece il rischio è semplicemente quello dell'ingessamento del sistema cioè il fatto che la necessità di dover alimentare questo inceneritore con il tonnellaggio prefissato per fare in modo che poi si ripaghino gli investimenti nel tempo non consenta più di spostare sempre più in là l'ambizione sulla minimizzazione del rifiuto residuo quello che viene smaltito nel sacco nero trasparente cioè quello che avanza dopo la raccolta differenziata questa qui è proprio uno dei principi sovraordinati dell'agenda europea sull'economia circolare è quello di cercare di minimizzare progressivamente quello che non può essere recuperato se però io ho la necessità a quel punto di alimentare un inceneritore questo percorso progressivo di ottimizzazione nel sistema non può più avere non può più avere luogo ed è per questo quindi che l'unione europea non finanzia più a fondo perduto questi impianti esattamente per questo a livello europeo addirittura si è coniato un principio che è abbastanza famoso per noi che lavoriamo sulle politiche europee che è il cosiddetto D.N.S.H. è un acronimo inglese che sta in italiano per non creare un danno significativo all'economia circolare ed è il motivo per cui l'incenerimento è stato escluso da tutte le forme di finanziamento e sussidio inclusi i famosi recovery funds anche su questo a volte sento parlare in maniera fantasiosa di possibile ricorso ai recovery funds ma è esplicitamente esclusa la possibilità di finanziare gli inceneritori questo significa dover fare integralmente ricorso al mercato dei capitali e chi presta capitali non lo fa gratis vuole il capitale indietro più un cospicuo interesse il sindaco di Valvasone Arzene Marcus Maurmaier afferma che l'obiettivo sarà di avere emissioni pari a zero questo è possibile? questo è impossibile perché semplicemente non esistono processi con emissioni in atmosfera in cui siano pari a zero sì ho sentito questa cosa per cui sembrerebbe addirittura che da certi impianti esca l'aria più pulita rispetto a quella in ingresso e dipende cosa si va a guardare magari i livelli di particolato sono relativamente più bassi rispetto a un luogo della pianura padana dove c'è un sacco di traffico veicolare ma tutto il resto tutto quello che esce da questi impianti non viene monitorato quando si fanno questo genere di calcoli e quindi non solo non sono pari a zero ma probabilmente emettono delle sostanze che non guardandole non le vedi parliamo di sanità in Veneto orientale l'ospedale di Jesolo sarà riqualificato con un investimento da 10 milioni di euro il servizio il ritorno alle origini con nuove terrazze fronte mare un parco terapico e poi una nuova radiologia e una nuova dialisi con più ambulatori è l'intervento di riqualificazione dell'ospedale di Jesolo presentato dall'Ulss4 grazie a un finanziamento da 10 milioni di euro contributi della regione del Veneto e del piano nazionale di ripresa e resilienza un salto di qualità per un bacino d'utenza di oltre 40 mila residenti senza contare i milioni di turisti che ogni anno soggiornano nelle località di mare si tratta del più grande intervento di recupero della struttura dalla sua nascita abbiamo messo al centro non solo il tema della sicurezza dei percorsi della funzionalità e della disponibilità di spazi ma anche la parte legata al comfort all'accoglienza alla visibilità e per il paziente ma anche per gli operatori perché siamo convinti che oggi le persone che si recono in ospedale non debbano trovare delle strutture assettiche ma delle strutture all'interno delle quali stanno anche bene ovviamente compatibilmente con le condizioni di salute lo stesso vale anche per il personale che passa buona parte della giornata all'interno del posto di lavoro l'intervento non modificherà la vocazione riabilitativa dell'ospedale Iesolano ma bensì la potenzierà gli interventi previsti nella programmazione regionale saranno di carattere funzionale quindi miglioreranno la parte organizzativa ma anche di logistica quindi estetici si recupererà infatti l'aspetto originale del 1927 quando il nosocomio nasceva come istituto balneo elioterapico di Cava Zuccherina con le storiche terrazze aleoterapiche e un parco terapeutico sul fronte mare siamo adesso in compagnia di Marco Putto esponente della lista civica cittadini grazie per essere qui con noi questa sera grazie a lei buonasera ai telespettatori le nostre montagne sono popolate da diversi animali tra cui anche i lupi che insomma in questo periodo sono tanti e causano delle conseguenze anche poi per chi vive in pianura esatto delle conseguenze che possiamo misurare anche qui nei nostri comuni per esempio con il proliferare di cervi e di animali che un tempo erano animali che vivevano esclusivamente in montagna o al massimo nella fascia alta della pedemontana e adesso ce li ritroviamo in mezzo alle case quando ero sindaco qualche mese fa fino a qualche mese fa mi sono trovato di fronte a questo problema in modo importante c'erano circa 18 esemplari che giravano per l'esattezza erano circa 12 su Azzano gli altri nei comuni limitrofi che di fatto stavano arrecando dei problemi dei danni ed erano anche pericolosi avevo interpellato all'epoca la forestale e la regione e tutte le competenti autorità e con grandissima fatica avevamo ottenuto lo spostamento di alcuni esemplari 4 o 3 ora il numero esatto non lo ricordo che sono stati riportati in montagna ma torniamo ai lupi le conseguenze della pianura evidentemente hanno delle cause in montagna proprio in questi giorni si è registrata una proliferazione anche dei lupi in montagna per esempio nel bellunese da 5 a 17 branchi di lupi in soli due anni con dei problemi importanti per gli allevatori della montagna e evidentemente crescendo i predatori anche i predati si rifugiano verso valle ora ovviamente non sono un esperto non spetta a me dare ricette però un ragionamento che cerco di fare cercavo di fare anche quando appunto ero nel mondo delle istituzioni ma che voglio portare all'attenzione è quello di non escludere a priori anche se sembra brutto dirlo qualche campagna di contenimento dei lupi in montagna peraltro già in fase di proposta di legge e al vaglio in questo caso del consiglio regionale del Veneto ma il tema verrà portato prossimamente anche in altre regioni perché evidentemente è da 46 anni che il lupo è specie protetta quindi da 46 anni che non si può cacciare il lupo bene ovviamente va bene rispettare al 100% gli animali però qual è il tema è che i lupi sono cresciuti e i predatori che sono i predati che sono arrivati verso valle possono essere cacciati i cervi anche qui in pianura in determinate zone e con determinate metodiche possono essere abbattuti e questo è assolutamente consentito allora siamo arrivati al paradosso per il quale abbiamo tutelato per mezzo secolo i predatori dei predati non ci si è occupati molto e ora questi animali ce li troviamo in mezzo alle case ad Azzano Decimo negli ultimi tre mesi ci sono stati tre incidenti dei quali hanno dato conto anche i quotidiani importanti fortunatamente senza danni alle persone che hanno devastato macchine mezzi con danni di migliaia di euro anche perché ci si dimentica i cervi sono animali molto grandi e possono appunto anche contro una macchina causare danni chi se li è trovati davanti parla di un muro di fatto quindi macchine veramente distrutte nella parte anteriore quindi o posteriore dipende dove incocciano quindi il tema è un tema importante e io ho portato all'attenzione questo tema non riteniamo tabù il tema del contenimento di questi animali perché poi le conseguenze le misuriamo anche noi e appunto ha menzionato insomma quando era sindaco di Azzano Decimo l'attuale amministrazione ha recepito con una delibera positivamente insomma il piano regolatore che avevate approvato e insomma la sua giunta aveva approvato sì è stata una bella sorpresa e di fatto appunto ci siamo compiaciuti di questo tipo di atteggiamento perché al di là poi di quelle che saranno le prerogative della nuova amministrazione che potrà portare tutte le varianti che desidera evidentemente al piano qualora lo ritenga l'impianto complessivo del nuovo piano regolatore cinque anni di lavoro nel territorio con incontri è stato un piano regolatore molto partecipato il nostro di fatto sono stati valutati positivamente anche da questa nuova amministrazione quindi siamo stati contenti di questo e speriamo insomma che questa strada sia una strada che viene portata avanti perché davvero era ed è un piano regolatore sostenibile grazie allora Marco Puto per essere stato in nostra compagnia quando vuole sempre benvenuto nei nostri studi grazie a voi ci fermiamo un istante per un piccolo break pubblicitario ma poi torniamo con gli altri approfondimenti e le notizie dal nord-est non andate via ben ritrovati ai nostri telespettatori e proseguiamo con il notiziario del nord-est Palmanova la stella di Natale 2022 mercatini spettacoli danza e musica mostre e tanto altro preparato in occasione delle feste natalizie sentiamo mercatini mostra danza enogastronomie e spettacoli con una tensione particolare anche per i più piccoli oltre a questo si conferma la tradizionale festa di Capodanno in piazza grande con animazione musicale i fuochi d'artificio il comune ha pubblicato l'elenco completo degli eventi che animeranno la città stellata dal 2 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023 per tutto dicembre a Palmanova avremo un programma di attività molto ricco e variegato eventi musicali animazione per bambini una grande mostra la polveriera Garzoni e tanti altri appuntamenti 33 eventi dimostrano come il tessuto sociale sia molto attivo di questo dobbiamo ringraziare il lavoro delle tante associazioni culturali che animano la città commentano il sindaco Giuseppe Tellini e l'assessore alla cultura Silvia Savi avremo tre mercati straordinari oltre ai tradizionali del lunedì mattina il mercato di Natale il 4 dicembre quello straordinario l'11 e quello di magia delle mani il 18 dicembre Palmanova vuole attirare i visitatori da tutta la regione offrendo possibilità di svago e compere in tutte le realtà commerciali cittadini aggiunge il vice sindaco che assessora le attività produttive Francesco Martínez un grande ringraziamento alla Pro Palma con la quale stiamo attivamente collaborando per i tanti eventi previsti in città che sta gestendo l'organizzazione del mercato di Natale e con la quale stiamo lavorando per allestire la città in clima natalizio si inizia venerdì 2 dicembre al Teatro Modena con il concerto il maestro e l'allievo Luca Trabucco e Matteo Bevilacqua pianoforte poi le 3-4 l'8 9-10 11 17 18 dicembre sotto la loggia di Piazza Grande la mostra natalizia solidale con oggetti e complementi da arredo a tema natalizio sabato 3 sempre al Teatro Modena il Fotoshow 2022 con Alberto Missana il linguaggio della luce e Luca Venturi Siena Awards un diverso approccio alla fotografia a cura del circolo fotografico Palmarino sempre sabato 3 dicembre alle 18 nel Salone d'Onore del Municipio il premio letterario nazionale Palma Storia 2022 giunto alla quarta edizione con la cerimonia di premiazione conferenza di Beniamino della Gala dal titolo Eretici e Brigatisti Umberto Eco il romanzo storico a chiave a cura dell'associazione culturale Libermente APS domenica 4 invece sarà già possibile assaporare l'atmosfera natalizia con il mercatino di Natale organizzato dalla Proloco Pro Palma con oltre 50 espositori già confermati dalle 9 alle 18 si potranno acquistare oggetti natalizi fatti a mano ceramiche candele gioielleria borse saponi e decorazioni per la casa oltre a dolcetti natalizi biscotti torte e crostate durante tutta la giornata spettacoli giochi musica laboratori ma anche concerti aperitivo elfi letterine a babbo natale palloncini mascotte tanti altri eventi in tema natalizio sempre domenica dalle 11 nello scenario della polvediera napoleonica di Contrada Garzoni verrà inaugurata la mostra fotografica dei took away our voice siamo in compagnia di Guglielmo Cevolin presidente di Storia Limes Club grazie per essere qui con noi questa sera grazie a voi parliamo delle proteste in Iran che continuano da ormai due mesi sappiamo date dopo l'uccisione di una giovane donna perché non indossava il velo secondo le regole del paese questo ha scatenato una sorta di possiamo chiamarla rivoluzione secondo lei ma a parte il tema del mettere in discussione il regime di Terama qui ecco io più che vederla un po' da casa nostra questa questione la vedrei dalla parte di Leanne cioè quello che è inaccettabile ovviamente il velo queste cose qua ma è inaccettabile la corruzione che ha la polizia che fa consentire le feste eccetera eccetera se si paga e che poi colpisce le donne ma tra l'altro non è solo la questione di uno che mette il velo ma sono violentate sono state violentate morte per dissanguamento cioè stiamo parlando quindi di atti atroci abominievoli la nostra concittadina che è ritornata salvata dalle carceri iraniane ha raccontato in questi giorni di urla di situazioni veramente inimmaginabile atroci atroci ecco quindi io la metterei più su che sulla questione la vittoria o il tentativo dei diritti umani del velo la metterei su su quello che sta subendo il popolo iraniano da questa polizia corrotta da un regime che uccide con la pena di morte i giovani giovani adolescenti e quindi adesso abbiamo le immagini in sovrimpressione e eccole qui e vediamo la distribuzione delle proteste in Iran tra l'altro ovviamente i più colpiti sono i sunniti curdi cioè le minoranze andiamo avanti c'è il tema anche dell'andamento dell'economia in una situazione di crisi che dipende anche dalle misure economiche occidentali per certi versi ma andiamo avanti ed ecco qui le ragioni dello scontento iraniano che riguardano anche i nuovi media eccetera eccetera ma la situazione comunque dell'atrocità del regime ecco è stata descritta proprio in questi ultimi giorni e direi che è su questo piano che dobbiamo pensare ai diritti umani cioè al fatto che poi ci sono atti atroci non solo la questione che è una questione anche culturale quella del velo e che ovviamente diciamo per esempio le giovani generazioni in particolare quelle più colte perché teniamo presente che in Iran per esempio le donne anche sono più laureate degli uomini cioè ci sono anche delle tra virgolette contraddizioni rispetto al nostro paese che invece la questione è un po' diversa ecco insomma o comunque per i diritti delle donne bisogna fare delle leggi appositamente mentre per esempio su questo aspetto l'Iran però è queste atrocità che sono inaccettabili certo insomma poi anche tante persone stanno perdendo la vita durante queste proteste pena di morte uccisione ma violenza sulle donne al punto che muoiono sono dissanguate dopo la violenza sessuale cioè di cosa stiamo parlando e non solo in Iran ma anche in Cina continuano le proteste i cittadini insomma si fanno sentire perché rifiutano la politica del zero casi covid ecco zero zero covid però diciamo che contraddizione porta in primo luogo anche qui non è solo il tema del lockdown eccetera eccetera allora she ha investito tutto su questo zero covid ha rinnovato il suo mandato nel congresso ma che problemi per paradosso incredibilmente nel momento in cui dovrebbe godere della prima prospettiva lunghissima di governo ha dei problemi di questo tipo cioè i lockdown ci sono stati degli incendi sono morte delle persone a causa del lockdown oppure nelle zone di produzione dei telefonini nella più grande fabbrica dell'iPhone in Cina di iPhone in Cina cosa è successo i lavoratori sono stati messi i nuovi lavoratori sono stati messi in dei dormitori insieme a dei contagiati e quindi ci sono state proteste di questo tipo cioè le misure durissime del lockdown poi in realtà nelle fabbriche non sono non sono rispettate per esempio e quindi ecco qui il tema che noi abbiamo un po' già trattato cioè della sicurezza e insicurezza che non c'è solo nell'Occidente cioè l'Occidente prometteva sicurezza e invece ci siamo trovati nell'apoteosi dell'insicurezza con la pandemia con la guerra eccetera eccetera ma vediamo che anche in Cina si sta verificando questo cioè i vaccini cinesi non funzionano bene come quelle occidentali e quindi la richiesta di zero covid e le misure molto dure di sci in realtà non ottengono il risultato della sicurezza sanitaria è sicuramente una tematica interessante avremo modo di parlarne ancora grazie intanto al professor Giuliano Cevolin per essere stato con noi grazie a voi parliamo di notizie più gioiose il presepe di Sutrio realizzato da artisti del legno attivi in Friuli Venezia Giulia sarà esposto in piazza San Pietro a Roma per le festività natalizie per il presidente regionale Massimiliano Fedriga è una vetrina importantissima per tutta la regione sentiamo Assessore Bini il presepe di Sutrio in piazza San Pietro un'occasione di grande visibilità per tutto il Friuli Venezia Giulia una meravigliosa occasione di visibilità e soprattutto una grande occasione per mettere in mostra quelle che sono le bellezze del Friuli Venezia Giulia 11 artigiani del Friuli Venezia Giulia che con le loro mani con la loro sapienza con il loro estro hanno plasmato dal legno queste 18 figure che andranno a comporre il presepe insomma Friuli Venezia Giulia che da sabato fino all'epifania sarà insomma vista dal mondo intero quindi un'ulteriore occasione un'ulteriore evento dove il Friuli Venezia Giulia è il centro mi piace dire del mondo in questo caso una seconda occasione anche per incontrare il Santo Padre c'è emozione in questo si l'ho detto l'ho detto in una legislatura già incontrare una volta il Santo Padre è tanta cosa due volte insomma ti emoziona davvero Governatore Federica in questa legislatura è la seconda volta che il Friuli Venezia Giulia arriva a San Pietro si sono contento ovviamente perché è la prima volta con la beta e questa volta con l'opera principale di Piazza San Pietro durante le festività natalizie ovvero il presepe e devo dire anche un'opera d'arte che rappresenta molto bene il nostro territorio con i collegamenti con il Friuli Venezia Giulia è realizzato in modo sostenibile soprattutto l'ho voluto ricordare in conferenza stampa con la culla creata dalle radici di alberi sradicati da Baia quindi anche questo dalle radici sradicate di un albero si crea la natività e la culla della natività quindi un messaggio molto forte che parte anche da un disastro che ha subito la nostra regione per rinascere all'interno di Piazza San Pietro su Piazza San Pietro in un'opera d'arte che avrà una visibilità internazionale parliamo di sport domani il Pordenone Calcio affronta la Pro Patria sentiamo le parole del mister Di Carlo mister Di Carlo si torna subito in campo entriamo nel vivo di questa settimana di questo trittico di Pro che gara dobbiamo attendersi domani con la Pro Patria? come tutte le gare sempre sono gare da prendere nel modo giusto noi vogliamo fare una partita tosta dobbiamo fare una partita molto di ritmo alto dobbiamo essere aggressivi bisogna giocare molto sulle fasce perché se dovessero chiudersi quella Pro Patria dobbiamo essere bravi ad aprirli un po' di più e poi cercare di andare dentro ma quello che conta domani è che vogliamo ritornare la vittoria e dobbiamo ritornarci facendo solo una partita assolutamente tosta da Pordenone e in queste ore che avete studiato l'avversario insomma la squadra di Vargas ha vinto il Casarabino l'EF che formazione è? siamo sempre alle solide hanno fatto una buona gara hanno subito solo visto all'inizio poi sono di fuori è una squadra che è molto in avanti sono rapidi veloci dietro sono molto fisici come ogni partita in SREC ci sono squadre che sanno chiudere spazi e ripartire bene poi hanno due quinti che hanno una buona tecnica che conta come si va con la testa e con l'atteggiamento che quello che deve essere il Pordenone deve andarci in campo con la giusta mentalità l'atteggiamento giusto ma soprattutto dobbiamo essere tosti e tornare ai tre punti attraverso la nostra filosofia di gioco che è quella di aggressiva di gioco e di profondità appunto lo evidenziavi anche nel post gara di sesto insomma la prestazione di creare occasioni è un silenzio di essere in grande salute dobbiamo continuare dobbiamo continuare su tutto questo aspetto qua perché la mentalità è troppo importante la mentalità vincente si costruisce attraverso gli atteggiamenti attraverso gli esseri propositivi tutta la squadra chi gioca chi è in panchina chi subentra è dentro e questo è il diciamo il focus importante per noi soprattutto anche i nostri tifosi vedo che ci stanno applaudendo e ci stanno seguendo con sempre di più perché vedono una squadra che lotta fino al 95esimo e questo Pordenone deve essere così agguerrito e vincente in particolare nelle ultime in casa compresa anche la sconfitta con la Ferapi è stato un Pordenone molto alto che è apprezzato dal primo secondo ma per adesso così stiamo bene i ragazzi stanno bene bisogna continuare a lavorare soprattutto sul gioco che è la diciamo che tutti si devono concentrare sul gioco che è la cosa più semplice ed è la cosa più difficile però quando tutta la squadra è concentrata sul gioco poi le motivazioni le vittorie fanno la differenza per quanto riguarda poi anche l'autostima noi dobbiamo riprendere il nostro cammino e con la Pro Patria ripeto dobbiamo portare tutti gli episodi da nostra parte con l'atteggiamento e soprattutto con il gioco e con quella determinazione che nell'ultimo periodo che stiamo avendo e lo stiamo facendo molto bene per tenere alta l'intensità magari ci sarà qualche variazione vediamo oggi abbiamo l'allenamento ancora a disposizione sicuramente se tutti stanno bene che mi fa piacere perché comunque posso scegliere l'importante è che tutti stiano bene però quello che conta è che Delis ha recuperato Palombi ha recuperato che sono andate due giocatori importanti Pirrell ha recuperato e quindi alziamo la qualità della squadra alziamo la qualità del gioco e soprattutto anche delle sostituzioni e quando si devono cambiare le partite dopo l'allenamento di oggi le idee saranno più chiare di chi magari è più stanco ma sicuramente chi subentrerà e se qualcuno giocherà al posto di qualcun altro è un titolare come quello che esce è tutto è tutto anche per il telegiornale di oggi grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguiti vi auguro un buon proseguimento di serata arpa, friuli, venezia e giulia vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni mercoledì e giovedì una depressione al suolo stazionera sul marionio facendo affluire sulla regione correnti umide in quota e venti di bora nei bassi strati andiamo nel dettaglio mercoledì 30 di primo mattino cielo variabile poi cielo da nuvoloso a coperto su pianura orientale e costa soffierà bora moderata con raffiche sostenute su Carso e Trieste sulla zona montana soffierà vento da nord o nord est moderato in quota specie su Alpi e Prealpi Giulie dove dal pomeriggio sarà possibile nevischio da 500 metri circa sul fondo valle del Tarvisiano possibili nebbie nella notte le temperature le minime sulla pianura tra 0 e 4 sulla costa tra 4 e 7 gradi le massime sulla pianura e sulla costa tra 8 e 11 gradi temperature medie e la libera atmosfera a mille metri in meno 1 a 2000 metri in meno 3 gradi giovedì 1 dicembre cielo in prevalenza coperto su pianura orientale e costa soffierà bora moderata con raffiche sostenute su Carso e Trieste sulla zona montana soffierà vento da nord o nord est moderato in quota e in giornata sarà possibile nevischio partire da 500-600 metri circa sul fondo valle del Tarvisiano possibili nebbie nella notte le temperature le minime sulla pianura tra 3 e 6 sulla costa tra 5 e 8 gradi le massime sulla pianura e sulla costa tra 8 e 11 gradi temperature medie e la libera atmosfera a mille metri 1 a 2000 metri meno 2 gradi grazie a domani a domani a domani a domani Grazie a tutti.